Quindi questa consegna dei pacchi regalo ai bimbi della formica è andata bene Babbo Natale? È andata bene, è andata bene e sono felice, non immaginavo più che ci fosse ancora invece per i bimbi e anche qualche adulto, il Babbo Natale fa sempre bene. È stata una bella idea della formica, faccio l'augurio a tutti e ringrazio di nuovo la formica che mi ha permesso di fare questo. Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti!